Campo Basso, Isernia e Termoli, oltre al centro-destra e al centro-sinistra, anche le altre forze politiche in campo per le elezioni di domenica hanno chiuso le loro campagne elettorali con iniziative pubbliche nelle principali città della regione. I 5 Stelle hanno scelto Termoli in piazza con i candidati a Camera e Senato, anche i leader regionali del Movimento, nei vari interventi critiche al centro-destra per la gestione della regione negli ultimi anni e al centro-sinistra, dalla quale i 5 Stelle hanno divorziato dopo l'alleanza degli ultimi due anni. Unione Popolare, invece, ha chiuso la campagna elettorale a Campo Basso con la presenza del leader nazionale Luigi De Magistris. Nel prossimo Parlamento saremo sicuramente opposizione alle destre, detto l'ex sindaco di Napoli, ma in modo serio e non come fa il centro-sinistra. Ovviamente, ha proseguito, non saremo nemmeno con il PD, che ormai non è più un partito di centro-sinistra, vedremo invece di dialogare con le forze che dimostrano di pensarla, come noi, sui beni comuni, sulla lotta alla corruzione e alle mafie, sulla pace e soprattutto sulla ridistribuzione delle ricchezze. Da Unione Popolare a noi moderati, la formazione che raggruppa i partiti di centro ha scelto Isernia per la manifestazione di chiusura alla presenza di tutti i candidati a Camera e Senato, ribadita l'appartenenza alla coalizione di centro-destra e le critiche alla delegazione parlamentare uscente. Infine, Italia Sovrane Popolare, che ha tenuto la manifestazione finale in piazza a Campobasso. Quello che intendiamo fare, hanno detto i candidati, è dare voce al dissenso, alla critica e ai tanti che non ce la fanno più materialmente e moralmente a riconoscersi in questo modello di società. Grazie. Grazie.